segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te da un'altra sinistra no ma da questo punto di vista sinceramente da questo punto di vista io sono abbastanza tranquillo anzi sereno per usare un termine che è stato abusato per una ragione semplicissima a proposito di sereno lo sa che renzi facendo una conferenza stampa per dire che fai direttore riformista adesso proprio per questo mi viene venuto in mente stai sereno diciamo ecco ecco ma che ne scusa di nuovo profitto giusto perché se lo vedo lì insomma in piena forma ma che ne pensa del nuovo ruolo di renzi come direttore riformista ma gli faccio gli auguri è bello cambiare ogni tanto nella vita diciamo ecco se è un nuovo inizio gli faccio gli auguri davvero un nuovo inizio che anche un nuovo inizio per l'unità diciamo quindi da questo punto di vista perché come vede noi vediamo nella televisione vediamo in queste immagini vediamo renzi direttore riformista e alla sua destra sanzonetti che sarà il nuovo direttore dell'unità quindi ci sono due nuovi inizi renzi direttore e l'inizio nuovo dell'unità in questo caso c'è un pezzo anche tra virgolette del mio cuore pensando all'unità quindi da questo punto di vista non posso che fare gli auguri tuttavia io sono sereno perché nella mia testa è sempre stata l'idea di servire il mio paese e quello è il punto fondamentale e servire il proprio paese tutto il resto sinceramente è una cosa importante ma non decisiva se posso per